Oggi abbiamo presentato il rapporto sulla competitività dei settori produttivi edizione 2021. Il rapporto naturalmente non può che concentrarsi sui problemi legati alla crisi, alla crisi economica che è stata scatenata dall'epidemia e da tutte le misure necessarie per contrastarla. È una crisi economica, come sappiamo, molto profonda, molto ampia, ma anche molto disomogenea, localizzata in alcuni settori piuttosto che in altri. Il rapporto presenta il quadro economico generale a livello internazionale e soprattutto poi italiano andando in profondità sui settori. A livello internazionale sappiamo l'Italia si trova in situazione simile a quella di molti altri paesi europei, un pochino migliore di quella della Spagna, un po' peggiore di quella della Francia decisamente rispetto a quella della Germania. A livello internazionale e globale solo la Cina, dove come sappiamo la crisi è cominciata, è riuscita però poi a uscire rapidamente dalla crisi. Tutti gli altri paesi l'hanno subita. Le esportazioni, questo è un punto importante, hanno avuto una caduta fortissima in primavera, ma poi hanno cominciato a riprendersi e con le esportazioni globali si è andato a riprendere anche il settore esportatore italiano, che è sempre un settore naturalmente molto rilevante. Dall'altra parte invece in alcuni comparti dei servizi la crisi è stata verticale e in alcuni casi come sappiamo dopo la prima ondata legata al primo lockdown c'è stata anche una seconda ondata in autunno, soprattutto tutte le attività riguardanti il turismo e comunque tutte quelle attività che sono colpite dagli effetti di contrasto sanitario. Nel rapporto cerchiamo di andare a dettagliare, quindi vediamo che l'industria nel complesso ha avuto una forte caduta relativamente localizzata in alcuni settori. Un settore che è stato molto molto colpito dalla crisi è quello del tessile abbigliamento, calzature, perché in generale la domanda di questi beni è caduta molto, è caduta molto a livello internazionale e a livello italiano. Gli autoveicoli sono un altro settore che sono stati molto colpiti, ci sono invece alcuni settori, prima di tutto quello alimentare, farmaceutico in maniera variabile, che hanno risentito meno della crisi. Nell'ambito dei servizi, naturalmente tutti i servizi con innessi al turismo hanno avuto un effetto dirompente, altri, prima di tutto quelli delle poste dei corrieri, quelle di telecomunicazione, invece sono riusciti a tenere se non addirittura ad aumentare la propria attività. Nel rapporto poi si va in profondità anche a cercare di capire come hanno reagito le imprese. Noi abbiamo molte informazioni anche raccolte con due indagini ad hoc, l'ultima è stata fatta in autunno proprio per monitorare gli effetti della crisi. Vediamo che c'è un segmento molto relevante del settore produttivo italiano, del sistema delle imprese, in particolare fatto di piccolissime imprese, soprattutto nei servizi che sono in forte crisi, circa un terzo di queste imprese si sente a rischio, a rischio di sopravvivenza. Abbiamo cercato anche di profilare, di capire un po' quali sono i comportamenti di queste imprese, in alcuni casi ce ne sono delle quote molto rilevanti che non sembrano avere capacità di risposta, non riescono a determinare una strategia di uscita dalla crisi, di risposta alla crisi. Questo è vero particolarmente per tutti i comparti connessi al turismo, ma anche poi qua e là per altri settori. Importante è che ci sia invece un nucleo forte di imprese, soprattutto di grandi imprese, che ha tutte le caratteristiche di solidità che sembrano rendere possibile il superamento della crisi. In termini di numerosità è una quota relativamente piccola di imprese, però in termini di fatturato, di occupazione, copre circa il 70% del fatturato complessivo di questi settori. La mappatura poi della crisi, dei pericoli di fragilità eccessiva e di incapacità di reazione sono stati declinati anche a livello territoriale, abbiamo fatto delle elaborazioni per cui riusciamo a presentare delle mappe, sia a livello regionale, cercando di capire quali sono le regioni dove di più il sistema produttivo è fragile, sia arrivando sino ai sistemi locali del lavoro, che sono più di 600 aree in tutto il paese, in cui si riesce ad andare a un livello molto più dettagliato per capire quali sono le aree in cui si concentrano le imprese fragili. Naturalmente è forte la fragilità nel mezzogiorno, ma non solo, ci sono anche altre aree a forte fragilità, per esempio anche in alcune zone del centro nord, soprattutto zone turistiche o zone in cui il tessuto di piccole imprese sembra essere in difficoltà.